Il mio libro si chiama I misteri del castello di Acaia, è ambientato appunto nel castello di Acaia, parla del barone e di un delitto, anzi tre delitti che si verificarono in quel castello. Complessivamente si tratta di un libro di facile lettura e narra appunto di questa donna albanese che da serva del barone vide stuprata la figlia e quindi la sete di vendetta la portò ad allearsi con Satana e raggiungere il suo scopo di punire gli assassini della figlia così. Pertanto poi dopo si svolge un quadro completo di narrativa che non fa altro che concludere così la vicenda. Grazie a tutti.